A Domenica In questa volta non è stata l'amica Mara Veniera a fare una gaffa, bensì il suo ospite, Ezio Greggio, proprio il comico, intervenuto nell'ultima diretta del talk domenicale, si è lasciato andare ad una battuta, oserei dire una battutaccia, che non ha fatto ridere proprio nessuno, neppure il mio gatto, pensa un po' te, non solo, eppure scivolato sul congiuntivo della lingua italiana, accidenti questo congiuntivo, quanti danni che fa, insomma, non si è fatto mancare proprio nulla, ora vi racconto nel dettaglio tutto quello che è successo, Ma prima di proseguire, sigla! Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nat e questa è una nuova pillola di gossip, Ezio Greggio, è stato uno degli ospite dell'ultima diretta di Domenica In Bene, l'ospitata però non è proprio filata liscia, male, il comico infatti si è lasciato andare a un paio di gaff che hanno fatto molto discutere sul web, ma andiamo per ordine, con calma, con calma, Greggio è intervenuto nel salottino di Maravenier per promuovere il suo libro, non avevamo dubbi, intitolato Number One, una vita di avventure, incontri, scherzi e risate, nelle migliori elicole, Sin qui nulla di strano, se non che ha commesso una prima gaffa proprio sull'uso della lingua italiana, cioè te vai a promuovere un libro e in buona sostanza non ha azzeccato il congiuntivo, Vabbè, i film di Fantozzi fanno maestro di queste cose qua, comunque il che per uno scrittore è una cosa un po' curiosa, visto che Dui dice che è proprio uno scrittore, non è che si avvale di Ghostwriter, dovrebbe averlo scritto proprio lui, nel dettaglio il comico ha usato il condizionale al posto del congiuntivo, nel momento in cui ha detto se dovrei usare una parola, ma lo sa pure il mio gatto, che si dice se dovessi usare dopo se, sempre se, insomma, sui social gli utenti hanno fatto subito notare l'erroraccio, perché gli utenti sui social non vedono l'ora di essere lì, che si è sbagliato, 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 ironizzando appunto sul fatto che era stato commesso da una persona che era lì in veste di scrittore, in effetti, te la sei un po' cercata Ezio, poco prima il conduttore di Slissia si era lasciato andare anche ad una battutaccia che non ha fatto ridere proprio nessuno, tirando in ballo Cristiano Malgioglio e Rarimi Luxuria, nello specifico, se vi siete persi la scena epica, rivolgendosi al pubblico e all'avenir, ha detto scusate, io e Mara è da 71 anni che abbiamo una storia segreta, abbiamo un figlio, si chiama Cristiano Malgioglio, è venuto un po' così così non assomiglia a noi due, ma ha preso dalla sua zia Vladimir Luxuria Nelle intenzioni di Greggio voleva essere una battuta divertente, solo nelle sue intenzioni ovviamente, peccato che la sta grande maggioranza del pubblico non l'abbia ritenuto una battuta simpatica, tutt'altro, insomma, la comicità di Greggio questa volta non ha colto nel segno, anzi, il che non è una cosa usuale, di solito ci azzecca sempre, sto giro si vede che era un po', e non lo so, non ha dei motori caldi, si vede, sempre nel corso della diretta di Domenica Ine Greggio ha parlato anche del collega Enzino Iacchetti, in particolare ha voluto rassicurare il pubblico circa le condizioni di salute del suo partner Astriscia, e sì, perché sono settimane che Iacchetti conduce il TG satirico da remoto, da casa, ed era nato un giallo intorno a questo fatto, io stesso feci un video la settimana scorsa, i telespettatori erano molto preoccupati per la salute di Iacchetti, ma dopo a Domenica Ine Greggio ha spento tutti gli allarmismi. Ebbene sì, Iacchetti sta bene, benissimo, benone, ha solo avuto una brutta bronchite da cui ora è guarito, da notare poi che Ezio Greggio si è contraddistinto anche per il regalo particolare che ha portato alla padrona di casa. Appena è entrato in studio, infatti il comico ha regalato all'avvenire un mazzo di verdure, vabbè, di questi tempi con i prezzi alle stelle, ci sta, e ci sta. Proprio così al posto dei fiori, che i fiori si belli, profumati, tutto quello che vuoi, ma non ci fai niente, e Greggio gli ha regalato un mazzo di ortaggi, tra cui carote, insalata, pomodorini, insomma, un di tutto di più. Scherzando, l'ha detto con questi, ci fai un minestrone. Beh, direi che almeno questa battuta gli è uscita bene, dai, diciamolo, lo saldiamo in extremis? Ma sì, che altro dire? Di certo i telespettatori di Domenica Inn dovrebbero essere abituati alle battutacce, alle gaffe. Non c'è Domenica Inn, infatti, non c'è puntata in cui il maravveniere non ci regali qualche perla di saggezza o di gaffezza, oserei dire. Questa volta, invece no, ci ha pensato il suo ospite, Ezio Greggio. Va bene, raga, questo è quello che è successo durante la diretta Domenica Inn, volete farmi sapere che cosa ne pensate? Fatemelo sapere che cosa ne pensate, qui sotto nei commenti, sbizzaritevi come non ci fossero domani, e che dirvi, per il resto lo sapete, registrate, cliccate, condividete, scampanellate e prima di chiudere sentiamo l'opinione del mio gatto opinionista. Ciao gatto, l'hai vista Domenica Inn oggi? Ah, non l'hai vista? Ah no? Ah, ti sei vista la serie tv? Oh mamma, ma non diciamolo, eh, però, non diciamolo da Rai perché loro si aspettano che te guardi sempre... Ah no, non guardi più, ha troppa pubblicità, eh, in effetti. Quindi la battutacce non l'hai vista? No, ah ok, te la guardi su Rai Play, ok, perfetto. E che serie tv hai visto? No, ma ci stiamo facendo i cavoli nostri, dai. Va bene, va bene, quindi non puoi dire la tua perché non l'hai vista? Eh, qui, non so, gli amici di Gossip News vogliono sapere la tua opinione. Ah, non hai opinioni? Eh, ok, ultimamente te la tiro un po', eh, guarda che stasera niente crocchette. Va bene, dai, ne parliamo dopo, ciao, 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 ciao. Eh, niente, volevo darvi l'opinione del mio gatto e niente opinione perché non l'ha vista la puntata. Bene, però se voi l'avete vista, l'opinione me la potete dare, quindi commentate come se non ci fossero domani, e per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao ben tazzi! Ciao ben tazzi!